Voglio dirle, Presidente, che a me ha colpito molto questa vicenda del taglio a radio radicale. Mi ha colpito perché il governo di cui fa parte il Movimento 5 Stelle vuol dire che ne fa parte un movimento che della trasparenza dei lavori di quest'Aula, di questi edifici delle istituzioni parlamentari, ha fatto la propria etichetta di riconoscimento, dello streaming, delle dirette web. E allora qui si vuole chiudere la bocca allo strumento di trasparenza della democrazia italiana che da decenni informa in diretta i cittadini di quello che succede qua dentro. Anche quando qualcuno, come nelle ultime ore, come voi, lo dico per il suo tramite, Presidente, alla maggioranza, avete voluto impedire per un tratto la diretta web di una importante discussione in Commissione, proprio quella sulla legge di bilancio.